Enrico, vieni qua, vieni qua, mitico Enrico. Sabrina, allora io adesso, come sapete, iniziamo la seconda parte della giornata. Questa mattina, insomma, abbiamo, per chi c'era, molti di voi, ci siamo molto divertiti con Cruciane, abbiamo fatto una tavola rotonda, secondo me molto bella, Brumotti, eccetera. Però io vorrei adesso, vorrei adesso, un applauso particolare a colui che ha creduto, sin dalla prima ripartenza, in totale conflitto di interessi, perché non gli ho mai dato un euro, mai, 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 e con grandissima generosità è sempre venuto a tutte le ripartenze e ha fatto queste lezioni d'arte straordinarie, soltanto per voi e per noi. E quindi un grandissimo applauso a Vittorio Sgardi. Forza, Vittorio! Arriva! Vieni! Hai un'aria seria, Vittorio. Beh, insomma. Beh, insomma. Io sto qua perché dall'inizio ho paura. Hai ragione. Preliminalmente, essendo porro giornalista e un collega, essendo un complice di televisione, partimmo con virus alla RAI e poi virus fu chiusa d'autorità e io andai da Berlusconi a dire che portiamo la trasmissione, che fu inizialmente Max Trist, poi di Vene Quarta Repubblica, sulla media, se da allora il nostro connubio è stabile. E durante il passaggio da una rete pubblica a una grande rete privata iniziò la ripartenza. Gli appuntamenti furono probabilmente a Bari, al Teatro Petruzzelli, di cui io sono il primo motore della ricostruzione. Fu io a dare indicazioni alle diverse autorità, essendo privato il teatro, che dovevano mettersi d'accordo per trovare quello che oggi rende quel tempio, quello che è stato e anche meglio, diversamente da quello che è accaduto con la Fenice, secondo un schema com'era e dov'era. Però vorrei proprio iniziare questo discorso riprendendo la mia ripartenza e la mia libertà. Nessuno di voi lo può immaginare, ma essendo forro un giornalista importante, è bene che in questa occasione io per evitare il conflitto di interesse, che sarebbe nella stessa conferenza che sto facendo, secondo l'avviso dell'antitrust, e quindi io non potrei parlare d'arte, non dovrei occuparmi d'arte, dovrei essere un sottosegretario che si occupa di funzioni, peraltro anche limitate. Raccontare l'arte sembra essere, benché non sia una professione, io non faccio più il professore, non faccio di mestiere il presentatore di libri, non faccio di mestiere l'uomo di teatro, faccio spettacoli, faccio racconti come faccio oggi. Ebbene, vorrei annunciare qua le mie dimissioni dal sottosegretario di Stato alla cultura. No! Ma da questo momento io non voglio più essere, e mi dimetto non solo, ma visto che i giornalisti me l'hanno chiesto e non l'ho detto, ovviamente io faccio imprecazioni, sono noto per le mie imprecazioni, per le capre, eccetera, non ho nessuna volontà di crudentà e di morte per nessuno. Dissi, lo voglio vedere morto di zeri, poi non morì e nessuno morirà. Ma mi scuso con i giornalisti che si sentono in pericolo di morte, perché ho detto vorrei che tu morissi. Mi scuso perché chi l'ha interpretato in una trasmissione che è stata particolarmente cruda, ma che era sostanzialmente una trasmissione per un'intervista non autorizzata, non voluta, in cui non l'ha nessuna liberatoria, a un certo punto, non essendo un'intervista, io ho fatto imprecazioni. Quelle imprecazioni sono sembrate anche a qualche giornalista offensive. Dissi, cosa pensavo all'estero di un sottosegretario che augura la morte? Ebbene, io ritiro il mio augurio di morte. Mi scuso di averlo pensato e non sono più neanche sottosegretario. Quindi d'ora in avanti augurerò la morte senza essere responsabile di essere sottosegretario. Ma scusami, è un colpo di teatro perché è la prima volta che, sono due ore che medito se farlo o se non farlo. Potrei, la legge consente che io attraverso il Tar indichi quelle cose che ho detto, che non può essere in conflitto di interesse chi non ha un lavoro, chi non ha una professione, chi non fa l'attore, chi non fa il professore, chi è in pensione come professore, come sovrintendente. Io ho fatto occasionalmente, le occasioni possono anche essere quotidiane. Conferenze come questa. Questa conferenza, secondo quello che l'antitrust mi ha inviato, sarebbe incompatibile, illecita, fuori legge. Quindi per evitare che tutti voi siate complici di un sottosegretario, io parlo da questo momento libero del mio mandato di sottosegretario. Avete comunque un ministro, altri sottosegretari? Io riparto e da ora in avanti potrò andare in televisione, potrò fare conferenze. Ora ho parlato con un importante avvocato che si chiama Vitale, che mi ha detto ma la contraddizione di questa incompatibilità è che tu non hai una professione, non fai di professione il presentatore di libri, presenti il libro a quello che lo chiedono, non fai di professione il presentatore di mostre, non fai di professione il presentatore di artisti. È vero, io l'ho fatto occasionalmente, se poi le occasioni sono tre volte alla settimana, sono occasioni che non vogliono dire un lavoro come chi deve insegnare entro certi orari. Per cui io ho buona ragione di pensare che alla fine avrò ragione. Voglio avere ragione non essendo d'ingombro a un governo che ha personalità con molto minori conflitti di interesse, evidentemente personalità che sono totalmente specchiate. Io da questo momento sono Vittorio Sgarbi e basta, come sono sempre stato. Sono stato chiamato al governo perché sono Vittorio Sgarbi, non è che ho fatto conferenze e chiamato perché ero sottosegretario. Anche questo mi pare evidente, ma l'antitrust evidentemente non l'ha ritenuto giusto. Però forse il Taro lo riconoscerà. In ogni caso, da questo momento voi non siete complici di un criminale, non siete complici di un complice. Ho parlato già con Mediaset e andrò a prendere appuntamento per ricominciare la televisiva. Insomma, quello la posso fare. D'altra parte, essendo solo Sgarbi, io sono solo Sgarbi e non sono più un sottosegretario. Già la parola fa capire, sarebbe come essere sottosegretario. Lui sono Sgarbi e non voglio essere sottosegretario. Quindi comunico ai giornalisti, che non so se potevano aspettare, che mi dimetto con effetto immediato, scriverò la lettera a Meloni da sottosegretario. E lo faccio per voi. Ci puoi ripensare? Ci puoi ripensare il governo, perché il governo vorrebbe dar torto l'antitrust. L'antitrust ha mandato una molto complessa e confusa lettera, dicendo che avendo accolto due lettere anonime che ha inviato avanti i trasti il ministro della cultura, è una di lui, le lettere anonime c'era scritto che io non posso fare una conferenza da porro, che io non posso parlare di Michelangelo da porro, che non posso parlare di Caravaggio a teatro. Siccome domani sera dovrò farlo a Casarsa, evidentemente quando sarà, domani devo parlare a Treviglio di Butinone e Zenale, due sublimi artisti anche più singolari di Michelangelo, perché abbiamo risistemato per mia volontà il politico di Butinone e Zenale, che è un allievo remoto di Mantegna, in un museo positivamente aperto che apre domani mattina. Lo inaugurerò come Vittorio Sgarbi, me l'hanno chiamato come Sgarbi, io ho fatto fare il museo come sottosegretario. E però mi pareva una notizia, se sei un giornalista sei il primo a sapere, ma poi passerà sui giornali. In questo momento sono libero, posso parlare. Ci sono delle notizie che è meglio non dare? No. Non sarebbe uscito che... Però devo dire, io di professione non faccio i conferenziieri, di professione non faccio. Di professione faccio Vittorio Sgarbi. Vittorio, te il palco. Facciamoci un... Un altro complice, vedo di vari delitti, ho saputo che, ieri sera da Tremonti, che in un consiglio dei ministri, il ministro della cultura da allora, anche egli in competizione, in conflitto con me, disse che io ero andato a Kabul e c'era anche il Khan e anche sua figlia. E avevo firmato un accordo con l'Afghanistan per i beni culturali. Pare che io abbia detto, l'ho firmato in nome e per conto del ministro di allora. Ma la cosa ne è terminato molta indignazione, che avessi firmato io un documento, tra l'altro per nulla di fatto, perché siamo andati quando hanno liberato l'Afghanistan dai talebani e oggi i talebani sono ancora in Afghanistan. Quindi certamente non fu quello che cambiò la storia. Però vedo il Khan, che è stato con me allora, eravamo nel 2001 e facciamo questo viaggio memorabile per vedere i Buddha di Mamihan distrutti dalla violenza dei barbari. Ecco, adesso per arrivare liberamente al tema, nella condizione più semplice, quella di Sgarbi che parla d'arte, come ho sempre fatto. Mi sembrava che in un ministero della cultura uno che potesse raccontare l'arte sarebbe stato ad abbondanza, non ad abbondanza, sarebbe stato qualcosa che avrebbe aggiunto, non tolto, non poteva, nella mia impressione, essere incompatibile fare quello che sto facendo. Invece lo è. Questa incompatibilità da questo momento deve cessare. E cessa rinunciando a una delle due funzioni. Non potendo rinunciare a parlare, a raccontare Michelangelo, rinuncio alla funzione servile di sottosegretario che impone di non parlare d'arte, essendo sottosegretario alla cultura. Inizierò dicendo che questo libro è un libro involontario, nel senso che non nasce da uno studioso di Michelangelo, nasce da uno studioso del Rinascimento nell'Italia settentrionale, prevalentemente nell'Italia che va da Ferrara fino a Venezia e in quell'ambito in cui si muove la civiltà veneziana da Giovanni Bellini fino alla civiltà ferrarese con Ercole De Roberti, l'autore di un meraviglioso dipinto che oggi è conservato a Brera e che viene da Ravenna. Quello è il mio ambito. È vero che quell'ambito sfiora Michelangelo, che Michelangelo è a Bologna a un certo punto della sua formazione. Ma è vero che scrive un libro su Raffaello, un libro su Leonardo, un libro su Michelangelo, uno specialista di uno di questi tre artisti. Io sono un generalista con una specializzazione che è volta, come dicevo, alla pittura ferrarese, alla pittura veneta, tra 4 e 500. Lì mi sono mosso e lì ho fatto scoperte e ho fatto conoscere, per esempio, opere sconosciute di Niccolò dell'Arca, che vedremo, uno dei grandi scultori pugliesi che ha lavorato a Bologna, Niccolò da Puglia. Ho fatto la riscoperta di un grande artista che si chiama Antonio da Crevalcore, che si aggiunge alla triade dei maestri del Quattrocento ferrarese, che sono Cosbetura, Francesco Nelcossa, a molti noto per gli affreschi di Schifanoia, che sono affreschi di vita felice, affreschi di racconto della storia della corte, e Ercole de Roberti, che ho appena ricordato. In questo mondo, in questa dimensione, Michelangelo sta sopra. E quindi sono state scritte su Michelangelo una qualità così sterminata di cose che la varietà, la superbia di scriverne, sarebbe stata soltanto di una persona che non ha il senso del limite, come io non ho. E però non per questo l'ho scritto. E così dico per Leonardo, che ha avuto meravigliosi specialisti, fra cui il grande Carlo Pedretti, che se ne è andato qualche giorno fa, Augusto Marinoni, che era un grande specialista, e poi tutti gli studiosi, come oggi Camp, che si occupano di Leonardo Pittore. Raffaello ha i suoi studiosi storici. Eppure io ho scritto su tutti e tre. Perché? Perché in un'attività, la metà strada, fra esperienza, conoscenza, racconto e incompatibilità, io, circa dieci anni fa, ho cominciato a fare degli spettacoli a teatro che mi hanno portato a parlare per 150 volte di Caravaggio. Quindi ho fatto lo spettacolo su Caravaggio, molto visto, istituendo un rapporto con Pasolini, per esempio, e indicando una strada che di questo artista, che è un artista del Novecento, riscoperto nel 1951, con una grande mostra a Milano, a Palazzo Reale, e a Milano, non a Roma o a Firenze o altrove, ma in una non capitale dell'arte come era allora Milano, perché è nato a Milano. E ho fatto 150 spettacoli. Poi, riuscita questa impresa, mi hanno chiesto di andare avanti con autori conosciuti, quindi Leonardo, e quindi Michelangelo, e poi Giotto. Quindi mi sono trovato nella situazione di parlare non di opere come tante che io ho scoperte. Il mio penultimo libro si chiama Scoperte e rivelazioni e indica il divertimento della caccia di opere sconosciute, di opere mai viste, e tante, anche quelle su cui hanno aperto indagini su di me, sono opere che non esistevano, che io ho visto, che ho scoperto, che ho acquistato, che ho fatto restaurare, che ho esposto. Quindi il percorso è molto semplice. Prima non esistevano, non erano conosciute. Questo percorso degli inediti è il mestiere principale di uno storico dell'arte della mia formazione, che è quella della ricerca di quello che non si conosce, o dell'illustrazione e rivelazione di quello che è stato spiegato male. Quindi non certo Leonardo, non certo Michelangelo, non certo Raffaello. E però è capitato qualcosa che vale per Michelangelo in questo caso, che io, dovendo parlare di Caravaggio prima, e poi degli altri tre, Covid permettendo per 50, 60, 70 volte, un po' meno delle volte di Caravaggio. Caravaggio durò molto e fu un trionfo, e gli altri, con le diverse pause e intermittenze, furono ripetuti a teatro, in tutti i teatri italiani, 50, 60, 70 volte. Per cui, provate a parlare di Raffaello per 50, 60 volte, e non dico qualcosa di nuovo, ma il corpo a corpo con lui vi fa capire qualcosa che puoi raccontare. Quindi le tante cose dette in quelle 50, 60 occasioni per Michelangelo, Raffaello e Leonardo sono diventate un parlato, che era il mio essere interrogato da loro. Non spiegare loro che non hanno bisogno di me, ma io, come tutti voi, abbiamo bisogno di loro. Loro ci dicono cose che servono per la nostra vita. E per esempio il principio fondamentale a cui sono arrivato nel corso degli anni è che la religione, soprattutto la nostra religione cristiana, ma credo anche la religione ebraica, hanno una profonda ragione che è legata non alla certezza di Dio, Allah o il nostro Dio o Zeus. Troppi nomi hanno gli dèi per essere uno solo, e non sono uno solo. Avere già un Dio musulmano e un Dio cristiano ci dice come è singolare, si dividono il mondo, i musulmani li ha creati Allah e i cristiani li ha creati il nostro Dio. Non è possibile, manca qualcosa, perché sono religioni monoteiste, quindi da una parte o dall'altra c'è l'errore. Forse Dio non c'è, però gli uomini si accomodano al rapporto con Dio attraverso uno schema che fu indicato da Pascal quando disse che il cuore ha ragioni che la ragione non comprende. Cosa sono quelle ragioni? Sono la parola fede. Oggi la fede ha forti limitazioni. Le persone che hanno una certezza come fino agli anni dei miei genitori di Dio e della loro religione e del loro essere, come diceva Benedetto Croce, tra l'altro laico, non possiamo non dirci cristiani, che è vero per la nostra cultura, per la nostra formazione, ma è vero che per quello che riguarda il rapporto individuale davanti all'unico limite della nostra vita che è la morte, la morte è l'incubo della nostra vita, è quello che abbiamo davanti. In che modo tu puoi vincere la morte? Con la fede in Dio. La fede è la possibilità di pensare che dopo la morte c'è un'altra vita e dopo l'altra vita c'è ritrovare le persone che se ne sono andate che ci aspettano di là. E poi, oltre a quello, la risurrezione della carne, una delle cose più misteriose da concepire quando si risorge a 90 anni o a 30 anni, in piena forza o della debolezza della vecchiaia. Insomma, un tema meravigliosamente filosofico e teologico che però indica che le persone semplici e i cristiani sono in larga misura persone semplici che hanno un semplice lavoro, una semplice vita, non sono filosofi o teologi, hanno nella fede la certezza di non morire. Sono certi, mio padre e mia madre lo erano, che Dio c'è. Sono certi che Dio li attende. Sono certi che la morte si vince attraverso la religione e la fede. E quindi il tema è vincere la morte. Ebbene, qual è l'unica cosa che su un piano meno contrapposto alla ragione, perché esiste nella sua fisicità, si contrappone alla morte? Qual è l'unica cosa che rappresenta un'altra dimensione della fede? L'arte. Michelangelo è presente e vivo, Leopardi è presente e vivo, Raffaello è presente e vivo, le loro opere sono davanti a noi, sono protesi del loro corpo e sono lì, perché le opere d'arte portano con sé una dimensione che è quella della fisicità. Per vedere un'opera d'arte non basta una fotografia. La fotografia può essere utile, ma devi andare nel luogo, stare sotto la volta della Cappella Sistina e vedere Michelangelo, che è quello, non è quello che è sepolto e che non è più vivo. Viva è la sua opera, come prolungamento della sua vita. In questo l'arte ha una specificità che non ha nella letteratura, che dopo Gutenberg noi non leggiamo nell'originale, nessuno legge l'infinito del manoscritto con le varianti, che sono utili per gli studiosi. Lo leggi in un'edizione a stampa anche economica, però quello che ti entra dentro è il suo pensiero. La musica ha una condizione ancora più complessa, è la prima espressione creativa dell'uomo, la musica e la danza, l'uomo sente il rumore del cielo e salta, si muove con il corpo. Ecco perché la danza è una così immateriale espressione d'arte, così lontana da quelle classiche pittura, scultura, architettura, letteratura. Perché la musica è un moto che sta dentro di noi e ci fa sentire e ci fa dire il nostro sentimento. E dura il tempo che tu lo dici. Oggi ci sono registrazioni evidentemente, ma non sono la stessa cosa. E quindi la musica, la grande musica della civiltà cristiana che ha espresso tanta bellezza come nessuna civiltà religiosa mai espresso. Noi abbiamo anche della musica, pensate al Requiem di Mozart, ma pensate a quel Requiem che è uno spartito, che esiste solo quando un direttore lo interpreta. O una sonata del pianoforte quando un pianista suona il pianoforte. Quindi è lì che Trunk in quel momento vive, altrimenti è uno spartito fermo che non parla. quindi la musica è il compositore, l'interprete e ogni volta essa appare presente e viva. Questa è la qualità straordinaria della musica. La letteratura l'ho detto, l'arte invece è come una persona con corpo e anima. Aspetta che noi andiamo per vederla, per conoscerla, per parlarle. Andiamo a Monterchi per vedere la Madonna del Parto. Quella Madonna del Parto parla alle Partorienti e noi parliamo con Piero della Francesca della sua fisicità, dove lui ha messo il colore sul muro che ha usato davanti a quell'immagine che non è solo immagine ma è corpo, fisico e anima dell'artista che ha messo se stesso dentro quell'opera. Questa quindi è l'arte. La Pietà di Michelangelo, la prima immagine che possiamo vedere, l'immagine numero 4, è senza alcun dubbio la prima opera assoluta di un artista giovanissimo. Nato nel 1474, Michelangelo lavora a questo capolavoro nel 1498-99, quindi ha 24-25 anni. Singolare è che un altro genio più vecchio di lui che era nato nel 1452 che è appunto Leonardo, nello stesso anno sia a Milano e dipinga il Cenacolo, quell'opera che sembra la sindone di se stessa perché è un fantasma, però è meravigliosa, è una composizione fatta male tecnicamente ma con una forza di vita degli apostoli che guardano Dio che dice uno di voi mi tradirà. E' singolare che a Milano Leonardo e contemporaneamente Michelangelo a Roma facciano la stessa cosa. Poco dopo anzi nello stesso momento con le sue prime opere alla fine del 400 c'è anche Raffaello il cui capolavoro lo sposalizzo della Vergine che viene da città di Castello e a Brera anch'esso 1504. Quindi possiamo dire che in quel momento si sta stabilendo un'idea di rinascimento rappresentata da queste tre assolute personalità. Una che è in concorrenza con Dio che è Leonardo. Leonardo non ha una fede cristiana compiuta e convinto che l'artista sia il prolungamento di Dio. Dio ha creato il mondo io creo l'arte e l'arte non è riproduzione del mondo perché il suo capolavoro che tutto il mondo conosce e che tutti voi conoscete dentro di voi prima di andare a vederla a Louvre quando avrete 500 cinesi che la guardano quindi non riuscirete a vederla andate a fare un'opera di riconoscimento perché avete visto prima la fotografia è la Gioconda. La Gioconda non è un ritratto di una donna è una creatura vivente e parlante cinque anni di lavoro per far vivere una persona come se fosse Eva creata dalla costola di Adamo questo è Leonardo è la superbia la potenza dell'arte che si contrappone a Dio e lo intende come la sua premessa l'arte perfeziona la natura e quindi una srenata condizione superumana Raffaello è il più grande pittore di tutti i tempi pittore soprattutto e parzialmente architetto e se noi guardiamo i suoi capolavori in particolare credo il numero 43 anzi 43 vediamo che quest'opera sublime è un trattato teologico filosofico giuglio secondo sa da Raffaello che cosa è la chiesa la chiesa è una civiltà che ha un passato e un presente e un futuro in cui concorre anche il pensiero antico il pensiero classico il pensiero greco e quindi vedete che è presenti non in una chiesa ma in un tempio della conoscenza che è l'occidente che è il rinascimento vedete Socrate che parla con Alessandro con la testa di Leonardo Platone che indica col cielo quello che sta sopra di noi ciò che è sopra la nostra testa e l'altro Aristotele che indica quello che sta davanti a noi cioè la realtà e poi Euclide e poi Plotino e poi Raffaello nell'angolo e in primo piano in una continuità perfetta di tempi in un tempo solo che è il tempo del sapere Michelangelo se voi andate alla Pinacoteca Borosiana troverete il cartone di questa opera senza l'architettura in cui si vedono tutti i personaggi meno Michelangelo lo inserisce a un certo punto Raffaello come protagonista di un tempo senza tempo e per concepire questo capolavoro sembra necessario quello che lo scatto nella mente di Raffaello rispetto a suo padre Giovanni Santi che fu il primo maestro che poi lo portò prima di morire quando Raffaello aveva undici anni a Perugino che era il più grande pittore del suo tempo e quindi a lui lo affida il padre ma né Perugino né Giovanni Santi sono i maestri di Raffaello il maestro di Raffaello è uno solo dieci anni prima della sua nascita e quindi a vent'anni dall'invenzione di questo capolavoro 46 il decenne Raffaello ne sono certo andava dallo zio che era il priore della chiesa di San Bernardino la mausoleo dei duchi di Urbino e qui vedete Federico da Moltefeltro e come nessuno aveva potuto intendere né il padre né Perugino guardava quest'opera come un teorema assoluto un teorema dello spazio un teorema della prospettiva un teorema in cui nella conchiglia scende l'uovo come momento originario e poi la Madonna in questa sacra conversazione in cui i santi sono pronti a conversare perché sono tutti insieme non sono separati come nelle opere precedenti che erano politici con tanti scomparti lui stesso a Sansepolcro aveva fatto qualche anno prima un politico ogni santo per conto suo qui sono tutti insieme e a sinistra e a destra si sente lo spazio che si apre l'architettura è un teorema matematico ed è uno spazio che è lo spazio dell'ecclesia della comunità ma è lo spazio dentro cui sta Dio ebbene guardando quest'opera e senza bisogno della mediazione di Perugino lui sicuramente a trent'anni quando era nato nell'ottantatré quindi siamo nel mille e cinquecento nove dieci poco più di trent'anni suoi fa la scuola di Atene la vedete qua numero quarantatré se torniamo al numero 46 vi accorgete che questa architettura che sta nella parte superiore è esattamente la metà dello spazio come Impiero della Francesca ed è una moltiplicazione di questa architettura assoluta cioè nella mente di Raffaello c'è un paradigma c'è un archetipo che è questo l'architettura della chiesa sotto cui stanno la Madonna e i Santi e lui la moltiplica e l'allarga fino a farla diventare la volta di questo grande tempio numero 43 questo che è il processo che parte da Piero vedete questa meravigliosa architettura che è proprio un ampliamento di quella di Piero ed è un raddoppiamento dello spazio delle figure esattamente con la stessa proporzione del dipinto di Piero della Francesca indica che Raffaello ha in sé Piero della Francesca e ha in sé l'idea di una grande civiltà che deve rappresentare per indicare al Papa cos'è il senso della chiesa è il dipinto più importante del mondo perché è una allegoria non della chiesa non ci sono santi ma della conoscenza del sapere del sapere classico del sapere moderno che hanno un tempio in cui le figure che vedete sono Apollo e Minerva la bellezza e la ragione ma non è mitologia e non è neanche un'opera legata al mondo classico soltanto è veramente la sintesi di antico e moderno che rappresenta il rinascimento rinascimento ecco vi ho parlato di queste opere e anche della Gioconda per dirvi qual è la peculiarità dell'uno e dell'altro Leonardo che compete con Dio Raffaello che è il pittore della storia il pittore della chiesa il pittore dell'ordine del mondo il pittore dell'occidente e siamo noi e questo naturalmente ci mette davanti all'inquietudine di vedere come il mondo diverso dal nostro che è il mondo cristiano che qui ha la sua apoteosi rappresenta in una composizione analoga non la vita ma la morte guardiamo l'immagine numero 47 che è il teatro di Palmira che è un'architettura come vedete che può assomigliare all'architettura della scuola di Atene 43 colonne spazi timpani vedete c'è una somiglianza e c'è anche una somiglianza perché nella parte inferiore numero 47 noi vediamo che ci sono una serie di personaggi che non sono però Platone Aristotele Socrate sono i miliziani dell'Isis e i soldati dell'esercito ordinario della Siria cosa sta capitando fra un minuto che in quel luogo di certezza assoluta del mondo antico di architettura perfetta quel luogo diventerà scenario di morte sono armati i miliziani e stanno per sparare alla testa quelli in ginocchio non è devozione ma è una esecuzione è il momento della morte ed è una religione che si contrappone alla religione cristiana attraverso la violenza della morte davanti a un tempio antico Palmira fu in parte distrutta e capite che questa contrapposizione serve per dire cosa voglia significare la dimensione cristiana rispetto a quella che si rappresenta in tempi molto recenti siamo nel 2015 davanti a un tempio che diventa scenario di morte di catastrofe ecco ho fatto queste considerazioni che servono anche per capire qual è la dimensione di Raffaello arriviamo a Michelangelo Michelangelo inizia con un'opera che è già un'opera di piena maturità un artista compiuto che è appunto quello che rappresenta in numero 4 la pietà ma l'ispirazione della pietà non viene da Piero della Francesca come nel caso di Raffaello e neanche da una concentrazione su tutte le discipline del sapere che era quella per cui Leonardo è un filosofo e uno scienziato prima di tutto ma l'ispirazione di Michelangelo è Dante e quello che noi vedremo rispetto a Raffaello e a Leonardo in Michelangelo è il suo misurarsi con Dio il suo sentire che la sua opera deve dire che Dio esiste deve essere la prova non della fede ma della ragione che Dio esiste è quello che lui farà della Cappella Sistina intanto qui lui sta rappresentando i versi dell'ultimo canto della Divina Commedia che è il canto del Paradiso in cui San Bernardo indirizza la sua preghiera alla Vergine e le dice Vergine Madre Figlia del tuo figlio umile e alta più che creatura termine fisso d'eterno consiglio tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disegnò di farsi sua fattura nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso intra i mortali sei di speranza fontana vivace donna sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazie e a te non ricorre sua disianza vuol volar sanzali la tua velignità non pur soccorre a chi lo manda ma molte fiate liberamente al di mandare precorre in te misericordia in te pietate in te magnificenza in te saduna quantunque in creatura e di bontate allora perché io sento che l'ispirazione di questo capolavoro non è nell'arte ma nella poesia Michelangelo era così più grande di tutti il più grande artista di ogni tempo perché era versato in tutte le discipline mentre Mantegna che in qualche modo gli semiglia era un pittore dentro cui c'era la scultura pensate al Cristo morto di Brela c'era l'architettura la grande civiltà romana dei suoi affreschi c'era la poesia in riferimento a Virgilio lui era poeta e l'architettura quindi tutto questo mondo si esprime attraverso la pittura Michelangelo invece scevera queste discipline ed è architetto scultore prima di tutto pittore e poeta e sono quattro discipline che lui persegue per cui poesia e scultura per lui sono una cosa e hanno una forza di far esprimere nel marmo quello che è lo spirito delle parole e allora guardate vergine madre figlia del tuo figlio io credo che qui ci sia la chiave se noi pensiamo alla pietà pensiamo al momento del dolore della madre per la morte del figlio qui non c'è dolore c'è una meditazione profonda sul mistero della vita e della morte e non c'è il corpo straziato ma un corpo quasi di Apollo senza ferite morbidissimo e però è un uomo ed è un uomo che ha 33 anni la madre non ne ha 50 ne ha 18 17 la forza di Michelangelo è di sospendere il tempo lei è ancora la madre del bambino che c'è nei dipinti di Raffaello di Giovanni Bellini la mamma con il bambino il bambino piccolo e la mamma giovane qui la mamma è giovane e il bambino è diventato un uomo ma lei lo tiene sulle ginocchia come se fosse ancora quel bambino e guardiamo l'immagine numero 5 è l'immagine di una ragazza il tempo non ha ferito quel volto quindi la sospensione del tempo ci indica che il rapporto fra madre e figlio non è un rapporto che vede la sciagura della morte del figlio prima della madre ma vede la continuità di quel rapporto affettuoso e infatti dice Dante figlia del tuo figlio umile e alta più che creatura tu sei colei che l'umana natura nobilità stessi sei non divina ma umana ma hai a tal punto nobilitato la tua natura che il suo fattore cioè Dio che ci ha fatto e Dio è Cristo che scende sulla terra l'unico Dio che dal cielo scende sulla terra quel Dio che scende sulla terra non disegnò di farsi sua fattura accettò di essere fatto da sua madre quindi è impressionante quello che fa si fa fare in questo rapporto si capisce la dimensione della nostra religione e della potenza di un Dio che si fa uomo ma anche che nel farsi uomo ha una madre e quella madre lo fa tutto questo lo vediamo perfettamente in questa condizione di madre che prevale anche sulla morte del figlio nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace e l'amore è Cristo che è nel ventre suo per lo cui caldo è germinato questo fiore e il fiore che esce dal ventre della vergine è appunto Cristo e dice qui la vede in cielo sapete che l'unico essere umano per la nostra religione che è in cielo con il corpo è la vergine ed è la ragione per cui appare appare a Loreto appare a Fatima appare a Lourdes appare a Međugorje per chi la vede perché è nella condizione di stare fra cielo e terra non appare mai Cristo Cristo è risorto e sta dove sta e è tornato al posto da dove viene viceversa la Madonna è la mediazione con gli uomini perché è donna è umana e quindi dice qui dice Bernardo dove io ti vedo vicino a Cristo sei a noi meridiana face di caritate sei una fiamma luminosa di carità questo sei tu lì la madre e giuso giù dove noi siamo sulla terra intra i mortali dice Dante sei di speranza fontana vivace sei la speranza che a una persona a una donna a un essere umano noi possiamo chiedere in quanto uomini aiuto e infatti dice donna tu sei tanto grande e tanto vali che chi vuol grazie e a te non ricorre chi voglia avere grazia da Dio e non lo chiede a te sua disianza vuol volare sanzali è come uno che volesse volare senza le ali quindi dobbiamo chiedere a lei lei è la misericordiosa lei è l'ausiliatrice lei capisce e chiede a Cristo a Dio per noi grazia e quindi dice qual vol grazia e a te non ricorre è come chi volesse volare senza le ali ma però si rende conto che questo limita la misericordia della Vergine e in modo assoluto come il più grande teologo Dante dice la tua benignità e la benignità la condizione della Madonna non soccorre soltanto a chi domanda non dà aiuto solo a chi domanda ma molte fiate liberamente al dimandare precorre molte volte anticipa la tua richiesta è meraviglioso cioè precorre nel darci il suo aiuto il fatto che glielo chiediamo quindi è bene è giusto è necessario chiedere ma se anche non chiedi potrai avere perché tanta è la sua benignità è il massimo la condizione della Madonna è questa dimensione d'amore senza limite che dà anche a chi non chiede e poi chiude ed è quello che vediamo numero 4 nella piedezza dell'immagine con questa determinazione delle sue doti in te misericordia misericordia vedete che allarga le braccia in te pietate vedete che ha il Cristo in pietà in te magnificenza in te saduna quantunque in creatura e di bontate tutto quello che c'è di buono in una creatura è dentro di te ecco vi ho voluto leggere Dante per spiegare quest'opera perché proprio in questa continuità fuori del tempo dell'essere lei col corpo in cielo dell'essere lei eternamente giovane che è contro la verità della natura pur essendo lei una figura umana c'è qualcosa che viene contrastato da un'intuizione dell'anno in cui c'era anche in quel caso il Cannes mi pare io curai la biannale di Venezia fu esposta un'opera di Jan Fabre che era una copia perfetta della pietà di Michelangelo fatta a Carrara ecco la copia numero 8 dico perfetta per una doppia evidenza dai tempi della morte di Cristo sono passati 2000 anni quindi è passato un tempo che trasforma i nostri corpi dal tempo della pietà di Michelangelo sono passati 512 anni quindi 512 anni il volto numero 5 il volto di ragazza che già di per sé è oltre il tempo perché dovrebbe avere le 50 diventa un teschio numero 8 perché Fabre ha lasciato che il tempo scorresse e così tutto scorre perché è identica la parte delle ginocchia della veste ma il Cristo è vestito come un contemporaneo ha la giacca la cravatta cioè è un Christus Patiens e qualunque l'uomo patisca la violenza del potere quindi lei è teschio e lui è un contemporaneo è un'intuizione formidabile perché restituisce il tempo alla pietà di Michelangelo e ci fa capire cosa vuol dire questa sospensione della questo concetto del senza tempo di Michelangelo se applicando il tempo il risultato è questo e questa cosa serve a intendere come l'artista quando fa una copia procede seguendo un principio che è stato interpretato sul piano filosofico da un grande pittore come Magritte per capire bene questo Fabra possiamo risalire a questa idea di un capolavoro che è il balcone di Manet 11 cosa caratterizza questa opera? la vedete? intanto la pittura impressionista ma in generale la pittura tende a far essere presenti e vivere persone non vediamo che sono dei personaggi dell'Ottocento lo vedremo se fosse una fotografia la fotografia lo diceva bene Leonardo Cremonini porta dentro di sé la sua morte cioè una foto può essere fedelissima ma una foto mia di 30 anni fa è un altro uomo una foto dei miei genitori sono morti quindi ferma il tempo lo restituisce fedelmente per quel icchettunc la pittura invece la pittura di Giorgione la pittura di Tiziano la pittura degli impressionisti restituisce un momento di vita che non finisce che non ha scadenza quindi questo è un balcone a cui si affacciano per vedere una processione uno spettacolo una fiera un gruppo di persone fra cui lo stesso pittore Bert Porisò che era la sua amante altri due astanti che stanno al balcone quindi noi vediamo non quello che loro vedono ma loro che vedono è una buona intuizione ma serve a dire quel momento per cui non c'è una fine è un dipinto della seconda metà dell'Ottocento ma potrebbe essere un gruppo di persone che stanno su un balcone oggi questa è la forza della pittura Gremoni diceva la pittura rappresenta la vita la fotografia rappresenta la morte quando Magritte decide 70 anni dopo di fare una copia di questo dipinto fa una copia esatta e prende questo dipinto e ci fa capire cos'è capitato a quei personaggi del 1870 che sono dentro il balcone di Manet eccolo qua numero 12 è impressionante sono loro quattro sono il balcone i fiori ci sono possono essere cambiati gli uomini non possono essere cambiati sono quattro bare ecco questo è lo stesso pensiero che ha ispirato il numero otto di Fabre cioè l'idea di introdurre la variabile del tempo eccolo qua allora questo ci fa capire l'assolutezza della pietà di Michelangelo il suo misurarsi con un tema della vita che vince la morte della maternità che impone che il figlio rimanga sempre comunque quel bambino che è stato quello che dicevo prima e se noi vediamo la il prototipo ove non fosse come io credo Dante ma l'arte precedente l'arte che discende dall'arte potremmo dire che la pietà discende da un vesper build ovvero delle sculture tedesche che scendono in Italia come oggetti di devozione in cui si vede il tema del dolore della madre numero 10 eccone uno che sarà da Quileia vedete la madre soffre piange il Cristo è stecchito la morte è della sua rigidezza il panneggio quindi quello è lo schema che è nella rielaborazione di Michelangelo ma l'elemento fondamentale è in questo nell'idea che da questo Cristo stecchito esca un uomo nella morbidezza quasi più di un sonno che della morte numero 4 guardate il braccio vedete che il braccio cala come se fosse abbandonato come se il corpo avesse perso forza come se fosse nel sonno e questo è talmente straordinario che rappresenta sia per la deposizione borghese di Raffaello che molti avranno in mente sia per il dipinto che vedete adesso l'idea di un pittore moderno 1505 che non è stato mai a Roma che però a tal punto sente la potenza dell'invenzione di Michelangelo che gliela raccontano e lui ne prende un elemento importante che è il braccio che cade il pittore si chiama Bellini il suo ripinto è il numero 13 vedete questa pietà che è come un disco volante calato della campagna veneta che è la campagna sul cui fondo si vede la città di Vicenza con il Duomo la torre civica la basilica che poi diventerà quella palladiana e tutto questo con un panneggio che richiama molto quello della pietà di Michelangelo numero 4 vedete il panneggio così ampio ma soprattutto quello che richiama è il braccio numero 14 vedete rispetto allo schema del Vesper Build numero 10 il corpo di Cristo è un corpo che ha una morbidezza di cui il braccio è testimonianza perché ve lo dico perché è certo che Bellini ha meditato su Michelangelo anche senza averlo visto aveva avuto un disegno perché troppi elementi il braccio soprattutto ma un altro che è quello del volto numero 13 il volto ha la stessa inclinazione e lo stesso senso di meditazione non di dolore vedete che non soffre questa donna guarda con grande dolcezza il figlio lo vede come la mamma col bambino ma con una variante prima di Fabre prima di questo artista moderno così apparentemente provocatorio che Bellini non riesce a rinunciare alla verità del tempo e qui la madre non ha 18 anni ma ne ha 50 è sgualcita ha la stessa espressione numero 5 della pietà di Michelangelo stessa aria neanche mesta come dire rassegnata e meditativa e però lo ha su un volto che ha 50 anni che il tempo ha colpito numero 13 e che rende umanissima questa pietà di Bellini che io sento anche più vicina di quella di Michelangelo perché Michelangelo è sovrumano nel far vincere il tempo alla sua Madonna Bellini invece sente che il tempo è irrevocabile che non si può impedire che la pelle si sgualcisca con il tempo e che la madre non sia più la mamma di un bambino ma la madre 50enne di un uomo di 33 anni questo è il miracolo vero di quest'opera che pure è succedanea è conseguente alla pietà di Michelangelo per un pittore che lavora a Venezia ecco ho voluto darvi questa indicazione per tornare poi indietro rispetto a questi esempi di meditazione su una morte temporanea la morte non è temporanea salvo che ci sia la resurrezione e quindi la morte di Cristo è temporanea e ne è consapevole sua madre e la madre manterrà sempre nell'invenzione di Michelangelo questo rapporto di intrinsichezza con il corpo del figlio lo vedremo chiudendo però vorrei ritornare a qualche anno prima al 1463 quando a Bologna dove arriva Michelangelo nel 1494 naturalmente dopo averse stato a Firenze aver visto i grandi maestri Donatello soprattutto Nanni di Banco i tanti artisti che sicuramente lo hanno ispirato e però va a Bologna e va a vedere il più grande di tutti che si chiama Nicolò dell'Arca la cui opera dagli inizi del secolo scorso è stata fatta rivivere da d'annunzio che entrò in questo oratorio di Santa Maria della vita e vide quest'opera superba che credo anche Alcanna abbia visto con me che è il compianto di Nicolò dell'Arca numero 16 è un'esperienza inevitabile perché tu vero l'avesse fatta tutti avete visto la seconda tutti avete visto la pietà di Michelangelo dovete andare a Bologna a vedere questo Cristo sereno della morte e intorno sereno anche Nicodemo tutti gli altri disperati urlanti delle urla di dolore incontenibili perché è morto chi dava ragione della loro vita e allora vedete il dolore secco asciutto inconsolabile di San Giovanni che sta tutto stretto così in quel volto rinsecchito e intorno le donne le donne che sono come dire quelle che rappresentano nel mondo meridionale da cui viene questo artista era nato in Puglia e sono queste piangenti che vanno nei funerali a rappresentare un dolore senza fine quello che si vede ancora a Guardia San Framondi nelle celebrazioni settennali sono andato per 35 anni ogni 7 anni a vedere questi riti del dolore e vedete allora come urla urla e si precipita con il suo panneggio e il vento che lo anima la donna di destra e vedete quell'altra che dice non voglio vederlo e la madre che si stringe al petto le mani urlano urlano non hanno la compostezza numero 5 hanno davanti un morto 16 e per capire ancora meglio mia sorella fece un film sulla Nicolò dell'Arca e immaginò di riprendere le figure dentro dell'acqua per far sentire il movimento che è proprio di quest'opera cioè questa dimensione fluttuante un fotografo quasi centenario che ce ne vedremo a Ferrara fra qualche giorno che Nino Migliori dà la sua interpretazione a lume di candela della pietà del compianto di Nicolò dell'Arca numero 17 guardate come si sente questo negativo ma anche l'empito dei corpi che si precipitano verso quello del Cristo e vediamo l'espressione del San Giovanni quello più contratto numero 18 eccolo qua e vediamo la Maddalena numero 19 il cui urlo è un'apertura della bocca fino a uscire da se stessa un urlo d'assoluto disperato il primo urlo della storia dell'arte il primo tutti conosciamo quell'altro che è questo numero 20 che è l'urlo giusto di una testa che è come un teschio e che inonda il cielo di luce di colori rossi e blu che sono prolungamento fisico del suo urlo però il primo urlo il primo urlo di Munca è quello della Maddalena di Niccolò dell'Arca numero 19 eccola qua allora perché ve l'ho mostrata perché quando Michelangelo concepisce la sua pietà rovescia il compianto di Niccolò dell'Arca lo traduce da disperazione a serenità disperazione a meditazione da disperazione a equilibrio misericordia tutto quello che avete visto nella pietà di Michelangelo e è sicuro che lui era partito dal modello del grande artista Niccolò dell'Arca perché sull'Arca di San Domenico che è questa Niccolò dell'Arca numero 22 c'è Goro di Gregorio che ha fatto la parte più in basso dove c'è sepolto il corpo e Niccolò dell'Arca che ha fatto la cimasa vedete quella meraviglia che cresce che sale là in cima con tutti i i santi e poi quelle ghirlande in alto che sono la meraviglia di questa composizione vediamo numero 26 ancora probabilmente vedete questi sono gli elementi che la compongono ma due elementi stanno alla base di quest'Arca con questa cimasa di Niccolò che sono il numero 25 l'angelo di sinistra che è di Niccolò dell'Arca e l'angelo di destra che è di Michelangelo Michelangelo forno delle sue opere 1493-94 portando il suo angelo a fianco di quello di Niccolò guardate la diversità quanto Niccolò è mosso elegante l'altro è come un ragazzo pasoliniano è un adolescente con una grande energia contenuta in abiti stretti è la potenza che lui esprime dando il senso di questa calma di questa compostezza che si sposterà di lì a poco due o tre anni dopo nella pietà di San Pietro in Vaticano quindi il primo Michelangelo è questo allora sarà interessante poi continuare a vedere come nel 1501 aprendosi il nuovo secolo Michelangelo dia il segno di qualcosa che cresce e che si avventura dentro il mondo che è il Davide numero 29 eccolo qui quello che è impressionante di questo Davide è che rispetto a quello di Donatello numero 31 che ci rappresenta un vincitore che ha la testa di Golia sotto i piedi e composto dopo aver compiuto la sua vittoria lo vedete lì è un adolescente compiaciuto sicuramente Michelangelo lo ha visto però ha fatto un'altra operazione temporale ha arretrato il tempo e vedete allora che il suo Davide numero 29 è rappresentato prima di colpire quando ha il sasso in mano la fionda sulla spalla e poggia su una sola gamba in attesa di lanciare il sasso che ucciderà Golia quindi è il momento della meditazione della premeditazione dell'atto e lo vediamo tutto nell'espressione del volto numero 30 questa è l'espressione non del vincitore ma di chi ha la determinazione di vincere chi sta anticipando l'atto che farà è una potenza formidabile è un dato psicologico non è il Davide che afferma la vittoria ma il Davide che tenta la vittoria e la ottiene è la potenza di quest'opera che apre il nuovo secolo e in cui c'è tutto il passato e tutto il futuro perché sicuramente Canova l'avrà guardata ma lui non può aver guardato ciò che sta citando lui sta citando una figura una scultura antica classica una scultura romana una scultura greca in realtà se lo guardiamo bene numero 29 vedete come attacca il busto alle gambe vedete come questa compostezza nella tensione altro non sia che una premonizione di quello che sarebbe stato scoperto benché concepito duemila anni prima nel quinto secolo avanti Cristo scoperto nel 1972 io fu il primo a vederlo quando furono tirati fuori dall'acqua e poi furono esposti a Firenze nel 1981 e cioè i bronzi di Riace 32 guardate guardate come singolare guardate i due personaggi l'attaccatura del busto alle gambe per due sculture che indicano un paradigma anatomico e una perfezione che Michelangelo non conosceva ma che ha sentito e riprodotto il suo rinascimento e fa rinascere anche quello che non gli era ancora noto anche se era già nato era nato ma non gli era noto ed è impressionante come le due figure siano in qualche modo l'antefatto psicologico l'antefatto diciamo anatomico del Davide di Michelangelo in cui quindi c'è il punto d'arrivo di una civiltà che parte di qua come nella scuola di Atene c'erano Platone Socrate e Aristotele così in Michelangelo c'è la grande scultura antica anche non conosciuta ma da lui prefigurata e in qualche modo assunta dentro di sé senza averla vista questa è la meraviglia della grande Davide di e poi si possono vedere le opere con cui lui si sposta dalla pittura alla dalla scultura alla pittura come il Tondo Doni del 1505 numero 33 dove vediamo un'altra cosa che è vero che è pittura è vero che il modello sono i grandi tondi di Botticelli 36-37 in cui c'è la plasticità della Madonna anche 37 dentro lo spazio circolare vedete soprattutto qui dove la Madonna è messa di traverso con il bambino ma Michelangelo va più in là fa una sacra famiglia in cui la torsione numero 33 del corpo della Vergine vedete è tale per cui può accogliere il bambino che stando dietro di lei Giuseppe le passa ed è una scultura è uno spazio che dietro ha quei nudi per dare il senso di un volume lui sta facendo scultura con la pittura sta rendendo l'effetto plastico attraverso questo movimento che indica qualcosa che è nato come scultura e che diventa poi pittura è lo stesso che lui farà lo vediamo qui in questa singolare capacità di prima voglio farvi vedere la deposizione Baglioni che appare qui 35 perché la citazione di Michelangelo è evidentissima nel braccio lo vedete in fondo questo capolavoro del 1506 mette insieme la pietà di Michelangelo e la torsione del tondo Doni guardate che la Madonna che sta nella parte a destra viene sostenuta da una figura femminile che fa una torsione che è identica a quella della Madonna 33 del tondo Doni vedete che fa così vedete come dialogano gli artisti come Raffaello cita Michelangelo sia nella pietà che nel tondo Doni e poi andando avanti è evidente che il collegamento fra Raffaello e Michelangelo e fra Michelangelo pittore e Michelangelo scultore lo ritroviamo quando più o meno quando concepisce quest'opera così potentemente plastica lui manda a Bruges una scultura che è la Madonna di Bruges che è il numero 40 39 anzi 39 39 ecco vedete quel bambino che sta incastrato tra le gambe della Madonna in questa scultura perfetta ma se guardiamo il bambino ci accorgiamo che è identico in scultura numero 40 a quello che è in pittura il bambino del Tondo Doni vedete sembra tanto pittorico quello scolpito quanto scultorio quello dipinto in lui pittura e scultura vanno sullo stesso piano e andranno a tal punto sullo stesso piano che dove c'erano gli affreschi di Perugino dove c'erano gli affreschi di Signorelli dove c'erano gli affreschi di Bartolomeo della Gatta cioè nella fascia della Cappella Sistina che sta sotto la volta lì c'era una volta fatta di stelle e di cielo di un pittore che si chiama Pier Matteo D'Ameglia quando Giulio II chiama Michelangelo Michelangelo per quattro anni a Cervice Riversa sta a dipingere una volta che è quella che tutti voi conoscete numero 48 cioè riempie il cielo era solo un cielo di sculture Sibille Profetti e poi le storie della Genesi e poi le nervature dell'architettura fa una cosa impressionante quello che io chiamo rumore e paura citando Vasari cioè quando Raffaello entra nella Cappella di Nascosto vede questo cielo che è una tempesta come un momento della creazione infatti c'è la creazione è la creazione di Adamo numero 56 con questa potenza dell'energia del Padre Eterno che sta dando la vita a un corpo in qualche modo come assonnato intorpidito di Adamo che è ancora come se non avesse sì il corpo plasmato ma non avesse la vita la vita gliela passa con quella scossa elettrica il Padre Eterno arrivando con la sua forza e vedete che tra il dito di Adamo e il dito del Padre Eterno c'è un piccolo spazio che è impressionante perché è uno spazio che non si può colmare è impressionante potete vederlo forse del numero 58 ecco vedete c'è una distanza piccolissima pochi centimetri ma in realtà è una distanza incolmabile è proprio una specie di energia elettrica che scatta dal corpo di Dio per arrivare al corpo di Adamo vediamo anche un altro particolare che può essere interessante che questo restauro io l'ho visto l'ho seguito sono salito sulle impalcature e le terminò molti turbamenti perché la volta era una volta molto diversa era così il numero 57 era sporca la pulizia è stata giusta però forse qualcuno ha pensato che sia stata anche troppa e che abbia tolto alcuni ritocchi a secco polemica su cui non ritorno ma vedete la differenza tra la parte della pulitura cioè la prima della pulitura e dopo la pulitura un tema che fu molto discusso e poi vediamo ancora come nello spirito diciamo plastico che abbiamo visto nel Tondo Doni le Sibille numero 53 54 vedete sono vere e proprie sculture hanno una potenza plastica vedete questa addirittura ha ancora la torsione cioè lui gioca sul piano della provocazione virtuosistica a far diventare queste sculture nel loro volume delle pitture dentro lo spazio della volta è una condizione che ci fa capire quello che ho detto all'inizio che lui è dei tre grandi artisti Leonardo Raffaello e lui quello che è più vicino a Dio non compete con Dio ma parla con Dio ci dice che Dio c'è quello che lui dipinge è il cielo quello che sta sopra di noi quel cielo che lui popola di tutte queste sculture di tutti questi personaggi numero 48 vedete lui è lì di traverso per dipingere questa nuova creazione questo mondo nuovo e al centro mette infatti la creazione che è quella della Genesi ecco vi ho mostrato queste immagini altri potrei mostrarvi ma preferisco avviarmi una conclusione dicendo che se è vero che lui è partito dalla pietà è vero che con una pietà conclude siamo nella parte finale della sua vita negli anni 50 e per dieci anni lui lavora a una sola opera che è a Milano che fu comprata dal sindaco Greppi poi nel 1958 esposta al museo di Castello Sforzesco ed è la Pietà Rondanini numero 111 siamo partiti dal numero 4 ne ha fatta un'altra la Pietà Bandini 109 vediamola dove c'è una composizione con il Nicodemo che è dietro che sembra chiudere una piramide con i due angeli con l'angelo e la madonna che sostengono il corpo di Cristo che sta per cadere alla fine arriva una soluzione assolutamente innovativa non è più una pietà in orizzontale col corpo sulle ginocchia ma è una pietà verticale numero 111 eretta in piedi e con quella tecnica che non abbiamo adesso sviluppato che è il non finito che caratterizza il Michelangelo che toglie da un blocco lo spirito il corpo e a un certo punto anche se l'opera non è finita si accorge che ha vita lo vediamo nei prigioni i celebri prigioni uno dei quali vale la pena forse di vedere si fanno intendere guardate il numero 78 ecco vedete questo è il capolavoro assoluto iper contemporaneo del non finito di Michelangelo cioè sentiamo tutta la potenza senza che lui sia arrivato al compimento ebbene quando lui fa la pietà rondanini prende questo esempio prende questo metodo del non finito e numero 111 ci rappresenta vedete il torso che non c'è un pezzo di scultura che ha addirittura distrutto che era il Nicodemo che avete visto che lui elimina perché vuole che la pietà sia un dialogo solo fra la madre e il figlio il figlio ha perso tutta la forza le gambe sembrano cadere ma lei non consente che lui muoia gli sta dietro come se fosse la sua spina dorsale diventa una sola con lui un corpo solo la madre e il figlio non sono due sono uno questa è la potenza e lo vediamo nel dialogo delle loro teste sempre non finito numero 112 dove si vede come un volto schiacciato e il volto dolcissimo ancora di una ragazza quella stessa della prima pietà di Michelangelo che sembra dire tu non puoi morire ti tengo vivo io la morte non può esistere ecco questa è la grandezza delle pietà rondaglini forse la più grande opera dell'umanità che ci dimostra in questa fusione fra il corpo che muore e lei che gli sopravvive che la morte non c'è e che Dio esiste questo è il messaggio delle pietà rondaglini grande grande stai qua stai qua stai qua stai qua tieni Vittorio vai cazzo in piedi guarda di là guarda di là grazie a me guarda 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 l'otto valore clip e ricominciamo esatto iniziamo in ogni caso Vittorio 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 aspetta una domanda vieni qua io mi chiedo grazie il primo libro che noi regaliamo il primo libro che noi regaliamo a tutti quanti i nostri redatori è scritto da Carlo Nordio e si chiama giustizia sai cosa mi rode a me te lo posso dire che le tue dimissioni che hai appena dato io voglio vedere il governo poi che cosa farà su questo libro non può accettare non può accettare si fanno mangiare che ci sono questo è il punto queste dimissioni queste dimissioni se dovessero essere accettate dal governo basate sul nulla per ora sul nulla vuol dire Vittorio questa cosa qua è un vero problema non è giustizia non si prendono le dimissioni e io non è io capisco io capisco Vittorio io capisco Vittorio l'ho avuto spesso ospite a Quarta Repubblica durante queste compagnie però io ti conosco pure tu sei di una forza mostruosa mostruosa sei la persona che ha subito e che ha avuto sempre più forza nel reagire a tutte quante le polemiche queste dimissioni alla fine faranno sì che potranno dire abbiamo vinto io ho perso sono anche l'unico conflitto di interesse perché parlo tu non sei l'unico sono l'unico conflitto di interesse io sono l'unico gli altri non ce l'hanno e non voglio la morte di nessuno quindi mi basta la morte di nessuno ma lascia perdere la morte ma il conflitto di interesse se si mettono a prendere la lista di chi c'ha conflitto di interesse Vittorio io ce l'ho perché parlo d'arte ho parlato di Michelangelo se non mi fosse divesso ero fuori legge mi sono divesso per te perché non foste i miei complici nel fare una cosa incompatibile l'ultimo discorso ufficiale l'ho fatto ieri con l'amico Piraida l'ambasciata di Francia parlando di Cezanne e di Renouard ero al limite del conflitto oggi non lo sono più ma no ma che foto ne abbiamo fatte due miliardi invece stiamo vabbè Vittorio io penso e spero che io spero e penso che il governo il governo il governo possa fare possa capire possa capire che le dimissioni di Vittorio sono qualche cosa di più che le dimissioni tue poi io capisco perfettamente te e comunque ho partito solo da ottobre senza tregua ogni santo giorno da ottobre fino oggi Sabrina fatemi un applauso bravo grazie a Vittorio Sgarbi grazie a Vittorio Sgarbi grazie a Vittorio Sgarbi